Eccoci qua, è la quinta puntata del nostro podcast Il Raglio, il podcast della rivista Agli Asini con Nadia Terranova che ringraziamo di incontrarci, stavamo scherzando poco fa sul fatto che è ironico che ci incontriamo il 31 ottobre in un teatro vuoto tra l'altro perché siamo al Palladium, ospiti al Palladium che sono stati molto gentili a incontrarci ci incontriamo proprio la notte di Halloween, la notte dei morti e parliamo di la notte dei fantasmi e parliamo di Addio Fantasmi, il suo secondo romanzo e mi stai dicendo tutti i nomi che erano stati scelti e io ho trovato questo titolo molto ironico perché non è Addio Fantasma, non è il fantasma del padre con cui bisogna fare i conti ma sono tanti fantasmi che vengono dal passato. Ma io direi che il fantasma della madre è addirittura più presente, anche più spaventoso del fantasma del padre, in questo libro il fantasma del padre c'è ed è apparentemente forse quello intorno a cui ruota la vita di Ida, della protagonista, però ci sono tante presenze oltre a questa presenza assenza che sono invece delle presenze vive in carne e ossa ma altrettanto inquietanti, la madre, la casa, anche il marito che è un angelo protettore però anche lì c'è un fantasma in quel matrimonio che è il fantasma del desiderio perduto e c'è forse anche un essersi incagliati, un'incapacità di vedere davanti a sé. Ida vede il futuro come se ci fosse una saracinesca nera, è un personaggio senza idea di futuro, ci stavo riflettendo in questi giorni, ossessionata dal passato e da tutti i fantasmi del passato, completamente ingabbiata in un presente e non c'è mai nei suoi ragionamenti qualcosa che riguarda l'indomani fino alla fine, fino all'ultimo. Fantasmi non era una parola che ricorreva spesso nel libro, forse una o due volte, infatti il titolo è venuto molto dopo, però quando è venuto mi è piaciuta sia l'ironia che tu sottolineavi e sia il fatto che due parole negative per un libro tanto doloroso, almeno per me da scrivere, insieme si annullassero, cioè facessero un effetto come di rottura di un sortileggio e quindi di liberazione. Mi sembrava che, come dire, porgere ai lettori con questo titolo un libro che invece è pieno di presenze di fantasmi fosse un bel segnale. Senti, una curiosità, prima di scendere nel dettaglio del libro, la prima cosa che ho pensato leggendolo ho fatto subito il confronto col tuo primo romanzo e la prima cosa che ho notato è stata l'assenza della politica, nel senso che il tuo primo romanzo era Gli anni al contrario, era sempre un fare i conti con il passato, sempre una storia personale, un personaggio femminile che fa i conti con le figure dei suoi genitori e c'era sempre Messina, e però c'era un riferimento forte alla politica, invece in questo nuovo libro non c'è. E' una cosa che ho apprezzato perché spesso la politica, anche se è molto interessante fare dei ragionamenti sul nostro passato per capire da dove veniamo, perché siamo così, com'è fatto il nostro presente, spesso la politica è una facile stampella perché ti dà l'aiuto per dare importanza alla storia, invece qui non c'è, è tutta una storia personale, privata, è una storia intima per dire. Ho pensato la stessa cosa usando la stessa parola, stampella, e mi ricordo che quando l'ho finito ho pensato questa volta la stampella del tema non ce l'ho, non che l'avessi cercata nel primo, era venuta fuori perché la storia familiare che volevo raccontare era inestricabile da quella politica, quindi non mi ero mai seduta a scrivere, pensando ora scrivo tematizzando gli anni 70, avevo scritto una storia e mi ero resa conto che non li potevo disgiungere, e quindi li avevo inglobati, però naturalmente poi questa cosa poteva fare anche da carta di presentazione del libro, questo invece è un libro che parla solo di se stesso e quindi ho pensato che poteva essere un rischio, però ho anche pensato che i romanzi, poi quelli che mi piacciono, la maggior parte parlano, sono impossibili da agganciare veramente a questa terribile, secondo me, domanda di che cosa parla un libro, perché un libro parla della storia che racconta, così come però nel primo c'è uno stesso nucleo alla base, almeno nelle mie intenzioni, quello della tragedia greca, quello però era ben nascosto perché comunque la storia era appunto legata a un decennio particolare, quindi era ben agganciata ai fatti, agli episodi e qui c'era invece da andare in verticale, in profondità e quindi anche forse da farsi più male. Senti, a Dio Fantasmi racconto di una doppia scomparsa, come dicevi prima, cioè quella del padre rilaborata in un ritorno a casa, un nostos praticamente, e quella della scomparsa del desiderio in un matrimonio che sta in crisi, insomma. Il gioco di sdoppiamento c'è anche tra la narratrice che è Ida Lacuidara e la madre che la richiama a Messina per risolvere questo problema della casa che è il tetto con un'infiltrazione d'acqua, bisogna liberare questa casa dalle cianfrosaglie che si sono accumulate. La scomparsa è un tema molto siciliano, pensiamo al Mattia Pascal, alla scomparsa di Majorana. Sebastiano Lacuidara è il nome del padre, il corpo e la voce, questi sono i tre capitoli che compongono il libro. Il motivo della sua fuga è una grave forma di depressione e il non sapere se sia vivo o morto, se si è rifatto una vita è un trauma, non un trauma, una presenza che è un fantasma appunto che sia per la madre che per Ida, l'attraversa per tutta la vita e motivo pure del loro conflitto. Però la cosa interessante che si capisce di questa vita tra queste due donne è che non è stata un'esistenza infelice, in un capitolo si chiama anche l'infelicità come eccezione, non come dice il titolo proprio di un tuo capitolo. Questo è un libro molto ambiguo perché appunto non è un libro su un dolore permanente ma è proprio su una rilaborazione, sei d'accordo con questa interpretazione un po' confusa? Sì sì, mi sembra chiarissimo. Non è un libro su un dolore o perlomeno su uno solo perché almeno nelle mie intenzioni non ci doveva essere nessuna forma di autocompiacimento, cioè sedersi e guardare il proprio dolore e farne una culla, no. Invece guardarlo in maniera nuda e dire io sto qui dentro, sto in queste circostanze che mi sono piovute addosso e di cui non mi riesco a liberare, però c'è in nida con tutta la sua rabbia e con tutte le sue ossessioni una voglia di vederla, una luce da qualche parte, quindi i dolori sono tanti, sono disseminati in tante cose, forse in quasi tutti gli aspetti della sua vita tranne nel lavoro che la soddisfa perché lei scrive appunto finte storie vere per la radio e riesce a mettere nelle storie quel senso di libertà, anche di sovranità su quello che accade che nella vita non può avere, che non possiamo avere in realtà perché la vita è fatta almeno per metà se non di più da quello che ci capita e possiamo lavorare sulle nostre reazioni ma appunto non possiamo impedire alla gente di entrare in depressione, di scomparire, di morire, di abbandonarci o di avere qualsiasi comportamento che non ci piace, che non va. Lei è proprio sola di fronte a tutto, è una persona senza amici, rinchiusa in una solitudine grandissima da sempre, forse tranne l'infanzia, ma da quando il padre si è ammalato gravemente di depressione, anche per il senso di vergogna che opprimeva la sua famiglia, lei non è mai riuscita a far entrare qualcuno dentro casa tranne Sara, la sua amica, e questo le ha creato intorno a una serie di cerchi concentrici e ossessivi da cui può uscire soltanto ospitando le storie degli altri, ma non di quelle che inventa sulla carta, ma nel momento in cui prima la persona che appunto è stata la sua amica d'infanzia e poi uno sconosciuto, le raccontano la loro versione della propria vita, forse si può aprire uno squarcio, forse questo è anche quello che penso io veramente, perché quando arriva il dolore è molto egoista e può essere egoista per tantissimo tempo. Non sopportiamo che qualcun altro soffra quanto noi per la perdita di qualcuno, ma anche per le cose che accadono, basti pensare a quando c'è un grave lutto familiare e spesso i familiari anziché stringersi l'un l'altro cominciano a farsi la guerra, poi piano piano però da questo stato si deve uscire, si può uscire forse ascoltandosi, non vorrei dire una banalità, però è vero, nel momento in cui ti accorgi che quel calcio in pancia l'hanno preso anche altri, si può aprire una strada. Sì è vero, i due altri personaggi, Nikos e Sara che entrano con il loro dolore, sono due momenti di verità, due morali del libro molto belli, quei momenti verso il finale del libro. L'altro elemento che però mi piaceva approfondire è il rapporto con il marito Pietro, che io ho fatto una lettura forse troppo psicologica, nel senso da una parte sono i due personaggi maschili, da una parte c'è un padre assente appunto e comunque è un fantasma invadente, dall'altra invece c'è un marito molto presente, molto protettivo ma che sta in secondo piano, che non vuole intromettersi nella vita di Ida. Questa lettura va bene o è troppo psicologica secondo te? No, no, va bene, c'è sicuramente questo elemento. Pietro entra in sostituzione di un padre, ovviamente non le fa da padre in tutto e per tutto, si intuisce da quelle brevi conversazioni che hanno e anche dai messaggi e anche da quello che Ida ci dice di lui, essendo la prima persona di Ida così totalizzante, possiamo avere quasi soltanto il suo punto di vista. Però si intuisce che Pietro è anche un marito, un uomo, una persona consapevole, poi certo nella loro coppia è scomparso il desiderio e questo accade probabilmente in tutte le coppie di lungo corso che poi devono rifondarsi in qualche modo se ci riescono. Quello che forse è diverso in Ida è che questo fattore per lei non è così importante come l'avere a qualcuno accanto e allora si entra in gioco la psicologia che dicevi tu, perché lei ha troppo bisogno di avere le spalle coperte, di sentirsi protetta da qualcuno, da una figura maschile, non soltanto perché non è il padre, ma perché tutto ciò che riguarda il maschile nella sua vita crolla, anche la casa, la casa che normalmente è il femminile e che invece in questa casa è il maschile, perché in questo libro la casa è padre, si sgretola, c'è la macchia sul soffitto, il tetto sta cadendo, è proprio come se appunto Ida con le spalle se le sentisse sempre nude, quindi è ferocemente attaccata a Pietro e il fatto che ci sia un problema tra di loro diventa secondario, lo riconosce ma non le impedisce di pensare di continuare a stare insieme. La cosa curiosa è che la tua, però non è una narratrice debole, apparentemente dicendo questa cosa sembrerebbe molto dipendente, che ha un legame appunto di non di indipendenza col marito, invece è un personaggio molto assertivo, molto sicuro di sé, all'inizio dicevi che ricorda tutto, è vero, cioè a un certo punto dubita anche che quei ricordi siano esattamente così, però è un personaggio non ossessionato, è la parola sbagliata, però abitato da tutti i suoi ricordi del passato che l'accompagnano nel suo presente e ti volevo chiedere appunto l'utilizzo dell'inconscio, dei sogni, ci sono otto capitoli che tu chiami notturni, in cui perché hai voluto farli, insomma in questo modo, che senso hanno insomma per Ida quei sogni? Allora io mi sono accorta subito, avendo usato questa prima persona, poi di una donna che ovviamente non sono io, ma che ho creato molto simile a me per tanti aspetti, l'età che ho passato da poco, il fatto che fosse messinese, ho usato la mia casa come metro di Paragone, che scrivesse, che vivesse a Roma, cioè le ho dato tante cose che mi somigliavano per poter proprio ambientare questo libro nella mente di una persona, di un personaggio e quindi la mente di Ida è il posto dove tutto si svolge e non può essere tutto consapevole e cosciente perché le nostre giornate sono fatte anche di quello che sogniamo, di quello che pensiamo nel dormiveia, della circolarità dei pensieri che ritornano. Quindi ho pensato subito, subito ho scritto il primo notturno, infatti è il secondo capitolo e mi sono anche accorta che per I notturni dovevo cambiare tempo verbale, mentre tutto il romanzo è scritto al passato remoto. I notturni, così come qualche ossessione, così come un paio di scene appunto particolarmente ossessive, sono scritti al presente perché è il tempo in cui accade tutto, il tempo che si ripete continuamente, cioè doveva essere un tempo dilatato e poi mi sono accorta che questi notturni facevano parte di quello che stavo scrivendo. Poi ho scoperto che c'è un proverbio che ovviamente ignoravo che dice scrivi un sogno per di un lettore, quindi sono stata particolarmente temeraria, mi è insaputa, perché in effetti è come quando qualcuno ti racconta i sogni, non sono interessanti di solito, i sogni degli altri, però ho pensato che per poterli scrivere dovevo scriverli così come sono veramente i sogni, cioè sbrindellati, non dovevo ricondurli a un ordine, non dovevo farne una storiella, cioè se c'era qualcosa di assurdo la dovevo lasciare come era, se c'era qualcosa di troppo forte la dovevo lasciare come era, anche particolari che non quadravano, gente che diceva cose a caso, era il modo più fedele. Poi mentre scrivevo ho fatto veramente il sogno dei denti, che fa a un certo punto Ida che le cadono tutti i denti, ed è un sogno che presagisce lutti nella cultura siciliana tradizionale, se ti cadono i denti sta per morire qualcuno, è sempre un presagio negativo, al di là della veridicità di questa cosa secondo me. Poi ho scoperto invece da un libro greco, classico, sull'interpretazione dei sogni, che nell'antica Grecia sognare i denti, l'arcata superiore che cade, significa sognare problemi in casa, perché l'arcata superiore è la casa e questa cosa l'ho scoperta mentre stavo scrivendo, quindi a maggior ragione ho pensato che dovevo mettere quel sogno, dato che stavo scrivendo di un libro in cui la casa era un protagonista a tutti gli effetti. La mia impressione quando ho letto quel sogno è che fosse la perdita del desiderio, come se fosse una sorta di castrazione, però forse è una cosa esagerata. E poi c'è Messina, prima mi hai detto che il titolo doveva essere la casa di Messina, il titolo di progetto di lavoro. È una città poco raccontata, poco conosciuta, molto affascinante perché è una città di frontiera che si trova sullo stretto, tra due mari, come dice appunto varie volte, con queste sue passeggiate a mare lunghissime, come se fosse un lunghissimo lungomare e la sua assenza di storia per via del terremoto. E poi c'è un emblema verso la fine che è questa casa del puparo, vuoi dire che cos'è? Perché i messinesi lo sanno bene, ma chi non è di Messina non lo sa. Tu però lo sai, mi stavi dicendo prima. Io sono stata molto contenta di sapere che qualcuno fuori da Messina conosceva la casa del puparo, che penso che in un paese normale sarebbe un posto dove è super protetto e dove appunto si fa arte, cultura, perché è una casa che ha costruito il Cavaliere Cammarata, che era un uomo molto bislacco, vissuto nel secolo scorso, aveva fatto il muratore, era andato in America, era tornato e a un certo punto con tutti i cocci di vetro, di materiali, di materiali, aveva creato una casa simile, diciamo, forse il suo paragone più famoso può essere il Giardino dei Tarocchi, che c'è in Toscana. Una casa un po' delle fate, con tutte queste creature strane, scritte, un po' magica, dove i messinesi, soprattutto i ragazzi, andavano la sera perché in un quartiere abbastanza degradato, buio, in una stradina buia e quindi si andava lì davanti a farsi incantare da queste forme, da queste figure e così sempre con la raccomandazione di starci un po' attenti e a fumare dell'erba, come fa nel resto anche Ida con la sua amica Sara in motorino in passato. Ci ritorna con uno sconosciuto, Ida, e in questo incontro che hanno loro due la casa del puparo nel posto perfetto per fare accadere qualcosa di folle, è però qualcosa che in realtà accade, almeno a me accade, di parlare con gli sconosciuti e dirgli delle cose che forse non ho mai detto. A volte mi capita anche di dire delle bugie agli sconosciuti, come voler immaginare un'altra vita, se mi chiedono delle cose personali e a volte mi diverto a dire delle cose che non sono vere, però la maggior parte delle volte invece dico la verità e anzi dico più verità e Nikos dice a Ida qualcosa che forse in passato, come per sua stessa ammissione, ha raccontato soltanto a sconosciuti così nella sua verità. Pensavo che la casa del puparo fosse un luogo abbastanza onirico e folle dove questa cosa poteva succedere e poi lo ammetto, c'era in me la volontà di farla conoscere il più possibile, che io amo Messina, la amo tantissimo. Non so neanche perché, nel senso che non riguarda il fatto che ci sono nata e ci ho vissuto, perché quando ci vivevo non l'amavo, la davo per scontata e adesso invece quando torno non è nostalgia o perché sto invecchiando, è proprio riuscire a guardarla con uno sguardo che è di scelta e non dell'orgoglio è stupido di esserci nato, perché in fondo quella è una casualità. Senti, una domanda sulla scrittura, perché chiaramente c'è un dialogo con una certa narrativa del Novecento, una narrativa familiare e personale dichiarata con la citazione della Ginzburg in esergo, ma io ho pensato anche a Pontigia, Lalla Romano, ma quali sono i tuoi modelli nascosti? Perché questi sono evidenti, quali sono dei modelli a cui ti sei rifatta anche per Addio Fantasmi? Sulle ossessioni avevo letto l'Isola Riflessa di Fabrizia Ramondino e l'avevo trovato veramente un capolavoro di come si può raccontare quello che passa nella mente di una donna su un'isola, peraltro anche in quel caso perché lei ha ventotene, che viene proprio abitata da visioni ed è stato per me illuminante, l'avevo letto due stati fa mentre ero in piena scrittura della prima parte del libro. Poi i nomi che hai citato naturalmente ci sono, c'è anche qualche nome forse che non ricollegherebbe subito tipo Pavese, il Pavese della spiaggia o il Pavese che riesce a raccontare di piccolissimi posti, di piccoli, dei suoi piccoli luoghi, a farne un universo intero. Io l'ho scoperto dopo Pavese, non negli anni della scuola, ci sono arrivata intorno ai 30 anni, l'ho incontrato e l'ho amato tantissimo. E poi la poesia, c'è anche Amelia Rosselli che è dichiarata nel libro e che è un altro linguaggio che mi ha fatto entrare bene in una maniera in cui si possono raccontare delle cose apparentemente non reali, però in realtà molto reali nella vita di ciascuno di noi. No, guarda, io ho toccato tutti i punti che mi interessava chiederti su questo tuo nuovo libro che, ripeto, mi è molto piaciuto e credo che sia davvero un romanzo importante. Ti ringrazio di aver partecipato a questo podcast, a questo esperimento e ci vediamo una prossima volta. Grazie. Grazie a te perché mi sembra che queste domande abbiano veramente toccato tanto e tra l'altro devo dirti la verità in maniera originale, nel senso che hai tirato fuori delle cose che non tanto erano venute fuori finora, quindi grazie. Sono ancora nella fase, spero che duri il più a lungo possibile, in cui dalle domande e dalle osservazioni degli altri capisco che cosa ho scritto. E poi ora sei in tour, quindi ogni giorno ti tocca fare un'intervista, quindi ti ringrazio che hai ritagliato questo spazio per noi e grazie ancora. Grazie a te, grazie a te. 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 Grazie a tutti